Buongiorno amici di Trippotetos, siamo a Parigi, da come potete vedere, attaccamente a City of University of Paris, e siamo per fare un altro video di cosa puoi comprare con 10 euro, questa volta in Francia e a Parigi. Siamo il nostro tour, cosa puoi comprare a Parigi o in Francia, fate voi, con 10 euro, da una baguette, a solo 1,15 euro, forse mi dicono, almeno quella delle stelle, è uno dei migliori. Sotto la torre Eiffel, come potete vedere, ci sono dei personaggi, e questi sono i personaggi che si avvia in questi secchielli e vendono le birrette, quindi birrette, champagne, eccetera, 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 vino, sotto la torre Eiffel, eccezionale. Allora, abbiamo un croissant e un wonderpain chocolat, andiamo ad assaggiare prima il croissant, c'è una fame, mamma che fame, fammi vedere se mi trovo qualcosa per sedermi, no? Cos'altro possiamo comprare per 2 euro, possiamo comprare una di queste, io sceglierò questa qui, e siamo a quota 7 euro, guardate com'è bellino, una bella stampa, per 2 euro, ci sta, bene, mancano altri 3 euro, vediamo cosa comprare. Tra le cose da fare con 10 euro a Parigi è sicuramente andare in bagno gratuitamente, che sono lungo le strade di Parigi, ci sono queste toilette gratuitiche, che, non devo dire la verità, è forse la primissima volta che le trovo. Adesso sono entrato, ed è in lavaggio, quindi in servizio, quando c'ero dentro occupato, e adesso si sta lavando, quindi con 0 euro potete andare in bagno. Sono 3 euro, cosa non riusciamo a comprare in questa fantastica bruna gelina. Ci abbiamo gli ultimi 3 euro da consumare, vediamo. Con solo i 3 euro abbiamo preso la quiche du jour, quindi una quiche francese, un altro piatto tipico, e siamo arrivati a 10 nella nostra rubrica. Ok, con questa quiche finisce la nostra rubrica, cosa puoi comprare con 10 euro in Francia, o a Parigi in questo caso. Alla prossima!